Dal romanzo di successo di Beverly Cleary Ramona! Ramona? Ramona! Perché non me l'hai detto? Le cose sembrano cambiate tra noi due Ramona e Bisus, presto al cinema Passeremo insieme tutto il resto dell'anno Dovrò prendere precauzioni E se pensate di conoscere Ramona Tenetevi pronti per vederla sotto una nuova luce Ramona, a te non interessa aggiungere colore alle cose, giusto? Dipende tutto dal tipo di disegno Quest'anno si scatena l'immaginazione Un'avventura dietro l'altra E lo stupore regna in famiglia Oggi tu e io faremo il disegno più lungo del mondo Anche alle principesse serve qualche trucco Joy King Selina Gomez John Corbett Bridget Monaghan Jennifer Goodwin Josh Duhamel Sandra Oh Ramona e Bisus Ti abbiamo visto le mutandine Diretto da Elizabeth Allen Ciao 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 Grazie a tutti.